ottimismo voglia di seguire il nostro oroscopo e portare fortuna a tutte e a tutti 16 aprile oggi è santa bernadette veggente di lourdes compleanni il conduttore anche attore ettore bassi nato il 16 aprile del 1970 e poi abbiamo lo chef degli chef antonino cannavacciuolo chef nato il 16 aprile del 1975 frase per questo 16 aprile prima di arrivare al nostro oroscopo è più raro della fenice uno che in tutto sia felice ariete giornata piacevole dinamica e promettente sul piano dei contatti umani che vi permettono di arricchirvi di nuove esperienze il pianeta sole accende i riflettori sul campo dei contatti e dei rapporti con il partner creatività nel lavoro favoriti gli incassi toro in amore dovete cambiare atteggiamento siate un po meno gelosi e un po più imprevedibili la persona amata non vuole riserve mentali nel lavoro avete desiderio di sovvertire gli schemi della solita routine assecondate la vostra creatività gemelli l'esuberanza vitale vi rende irrequieti e più che mai estroversi il sole vi rende incredibilmente vulcanici pieni di idee siete un punto di riferimento per tutti gli amici successi nelle relazioni sociali e grandi novità nella sfera dell'amore cancro scegliete la via della concretezza per risolvere i problemi economici e lavorativi incassi fortunati sono all'orizzonte non isolatevi cercate di vivere in mezzo agli altri anche le vostre contraddizioni avete bisogno di autenticità questa sera incontrate gli amici leone voglia di correre avanti per affrontare nuove esperienze rallentate un po se non volete distaccare qualcuno che vi sta a cuore venere vi rende magnetici e favorisce chi sa usare di più nel lavoro portate a termine ciò che avete iniziato vergine intraprendenza nel lavoro idee brillanti da mettere in pratica giove e mercurio continuano a proteggervi accettate senza drammi una critica infondata e procedete senza sciupare energie raggiungerete l'obiettivo su cui puntate in amore scegliete la via di un dialogo aperto evitando le chiusure bilancia evitate di farvi prendere dal solito nervosismo per le preoccupazioni a carattere lavorativo il futuro tiene in serbo le soluzioni più giuste rimandate per oggi programmazioni e affidatevi all'istinto del momento piacevoli imprevisti stasera in campo sentimentale scorpione con il partner e cercate di essere elastici e tolleranti eviterete così possibili conflitti riuscendo piuttosto a rafforzare le basi della vostra intesa nel lavoro assumetevi tutta la responsabilità delle vostre scelte ci sono apprezzamenti in vista sagittario qualche ripensamento ritarda l'attuazione di un progetto lavorativo meglio rimescolare le carte tenerezza e spontaneità caratterizzeranno il dialogo amoroso venere continua a sorridervi una vecchia conquista si riaffaccia all'orizzonte attenzione capricorno tutto ciò che è lontano vi attrae cercate però di vedere anche le cose interessanti che avete a portata di mano frenate lo spirito polemico in compagnia qualcuno si aspetta da voi maggiore comprensione momento buono per le finanze favorite le speculazioni acquario schiarite e rinnovato slancio vitale caratterizzeranno questa giornata ricca di emozioni per la vita affettiva non lasciate che l'irrequietezza renda contraddittorio il vostro comportamento siate espliciti con chi amate aiutate anche un amico in difficoltà u pesci possibilità di costruire le premesse per la proficua conclusione di una trattativa incassi in vista riaffiora invece un malinteso con il partner meglio non accantonare e approfittare invece di questa sera per sciogliere un vecchio nodo entusiasmo per un progetto che si concretizzerà molto presto